Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono iFiChip e mi occupo di recensioni di prodotti audio e in particolare di prodotti iFi. Oggi andremo a testare e recensire un DAC che fa anche da preamplificatore, in particolare è l'Aima T10. Prima di cominciare con l'unboxing vi ricordo di iscrivervi al canale in modo da non perdervi i prossimi video. Ho ordinato questo Aima T10 da Amazon, infatti potete vedere il logo sul cartone che riveste la scatola. Andiamo quindi subito a togliere il cartone e troviamo la classica scatola macchiata Aima che si trova in tutti i prodotti praticamente di questo marchio. Una volta aperta la scatola e tolto il foglio protettivo in polietilene, troviamo il solito cartoncino con la garanzia che è scritta completamente in cinese. Poi troviamo il manuale di istruzioni che è scritto in lingua cinese ma anche in lingua inglese. Poi troviamo l'adesivo con il logo Aima, poi l'alimentatore da muro, poi il telecomando, un cavetto USB per collegare il DAC al computer, poi l'antenina Bluetooth da avvitare dietro al DAC, poi troviamo una pennetta USB di 8GB in cui ci sono inseriti i file per i driver da installare su un PC, poi dentro una busta protettiva troviamo il DAC vero e proprio, che ha una finitura molto carina, è alluminio anodizzato nero, mentre la parte frontale è una specie di plexiglass però completamente riflettente, molto particolare. Infine troviamo poi le due valvoline che sono delle JAN5654. Per prima cosa andiamo ad inserire le valvole negli appositi zoccoli presenti sul DAC. La procedura è molto semplice ed è impossibile sbagliare, infatti basta far corrispondere il pin mancante delle valvoline sul pin mancante dello zoccolo del DAC. Le valvole si innestano bene e hanno pochissimo gioco. Andiamo ora a vedere il pannello anteriore di questo apparecchio. Nella parte sinistra troviamo un piccolo schermo OLED, mentre nella parte destra troviamo tre tasti e un'uscita cuffie. In particolare il tasto in alto ci permette di accendere l'apparecchio. Come possiamo vedere si accende infatti anche lo schermo OLED. Quest'ultimo ci indica in alto a sinistra il tipo di ingresso selezionato. In basso a sinistra invece la frequenza di campionamento che è utilizzata al momento. Mentre nella parte destra dello schermo troviamo l'indicazione del volume, che è espressa in valori da 0 a 99. In alcune parti del video vi sembrerà che lo schermo abbia delle interferenze, in realtà questo è dovuto alla ripresa della fotocamera. Non è un effetto che si vede occhio nudo. Gli altri due tasti che troviamo sul pannello frontale ci permettono di abbassare e alzare il livello del volume. E come possiamo vedere nello schermo a sinistra, quando effettuiamo la regolazione del volume, il valore del volume prende tutto lo schermo. Ed è una cosa molto comune, infatti possiamo andare a vedere il livello di volume anche se siamo a distanza rispetto all'amplificatore. Se andiamo a premere nuovamente il tasso di accensione possiamo anche andare a cambiare l'ingresso selezionato. Infine con una pressione prolungata del tasso di accensione andiamo a spegnere l'apparecchio. Andiamo ora a vedere il pannello posteriore. Per prima cosa troviamo l'uscita RCA, in particolare il canale destro e il canale sinistro, che andranno collegati a dei diffusori attivi oppure a un classico amplificatore. Poi troviamo un ingresso stereonologico di linea. Poi troviamo il connettore per l'antenina del bluetooth, un ingresso digitale quarsiale, un ingresso ottico, un ingresso usb per collegare il DAC al computer, infine l'ingresso per l'alimentatore da 12 volt. Andiamo a vedere velocemente anche il telecomando, che ci permette di accendere e spegnere l'apparecchio, selezionare gli ingressi con il tasto select, mettere in mute il DAC. Poi abbiamo tutta una sezione dedicata alla regolazione dei toni, bassi più e meno e alti più e meno. Poi abbiamo una cosa interessante che è la parte di tube on e tube off. Possiamo infatti andare ad accendere le valvole oppure spegnerle. In questo apparecchio possiamo infatti decidere se far percorrere al segnale in uscita un percorso di segnale che va appunto attraverso le valvole, oppure possiamo spegnerle e far fare al segnale un percorso diverso in cui non passa attraverso le valvole ma viene amplificato penso dai classici O-Pump. Poi troviamo i due tasti per la regolazione del volume e infine il tasto display che ci permette di regolare la luminosità del display. Andiamo ora velocemente a vedere le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore. Viene indicato il chipset, cioè l'insieme di tutti i circuiti integrati più importanti che vengono utilizzati all'interno dell'apparecchio. In particolare troviamo l'SA9123L che è un chip che si occupa della conversione del formato digitale USB a SPDIF. Poi abbiamo l'S9018K2M che è il DAC vero e proprio ed è un chip della ESS Sabre che è un'azienda famosissima per quanto riguarda i chip di DAC utilizzati anche in ambito Wi-Fi. Infatti i chip che produce questa azienda vengono anche montati sui DAC molto molto costosi. Poi troviamo OPA1656 che è un tipo di amplificatore operazionale utilizzato ad uso audio. Poi troviamo NJ-W1194 che è un chip che si occupa del controllo del volume e del controllo di toni. Poi troviamo il QCC3031 che è un chip della Qualcomm che si occupa della parte di Bluetooth e è un chip molto interessante perché supporta anche i codec aptX e aptX HD. Poi troviamo JAN5654 che sono le valvoline. E infine 47 headphone amplifier che io non mi intendo molto di amplificatori per cuffie ma dovrebbe essere uno schema che riguarda un tipo di amplificazione per cuffie. Poi troviamo i sample rate supportati per quanto riguarda l'ingresso PC USB e arriviamo a un massimo di 192kHz con una profondità di 24 bit. Poi ci viene indicato i sistemi operativi su cui funziona il DAC. Poi ci viene indicato il sample rate per quanto riguarda gli altri ingressi quindi Bluetooth, ottico e quassiale. Per quanto riguarda il Bluetooth abbiamo 24 bit 44.1kHz. Per quanto riguarda l'ottico abbiamo 24 bit 192kHz e anche per il quassiale stessa roba. Poi viene indicato appunto il chip del Bluetooth che è il QCC3031 è un Bluetooth 5.0 e vengono indicati i vari codec supportati. Poi il modello delle valvole che come abbiamo detto prima è il JAN5654 e vengono anche forniti dei tipi di valvole con cui possono essere sostituite per andare a modificare leggermente il suono. Poi ci viene indicato il tasso di distorsione che è dello 0.08%. Poi la riposta in frequenza che va da 20Hz a 20kHz con uno scarto di più o meno 0.2dB. Poi andremo a vedere nella parte di misura se effettivamente è così. Poi il rapporto segnale rumore che è di 108dB. Sensibilità d'ingresso 2V Poi il voltaggio di uscita che per quando abbiamo le valvole attive è di circa 2.2V e quando invece abbiamo le valvole spente è di circa 2.5V. Infatti durante l'utilizzo dell'apparecchio ho notato che se andiamo a disabilitare le valvole otteniamo un volume più alto. Poi l'indipendenza d'ingresso dell'amplificatore che va da 16 a 300Ω Poi ci vengono indicati i vari ingressi e i dispositivi supportati. Il voltaggio qui funziona che è 12V Le dimensioni che sono di circa 12cm per 10cm per 5cm E il peso che è meno di 500g Veniamo ora alla parte di misurazioni Come primo grafico andiamo a vedere la risposta in frequenza quando ho utilizzato l'ingresso digitale qualsiale con un ingresso audio a 24bit 192kHz E vediamo due curve In particolare la curva gialla è la risposta in frequenza quando è attivata la funzione Tube Off quindi con le valvole spente mentre la curva blu è stata ottenuta con l'impostazione Tube On quindi con le valvole accese Possiamo notare che per quanto riguarda le basse frequenze quindi dai 100Hz in giù le due curve sono diverse La curva ottenuta con Tube Off è infatti più lineare per quanto riguarda le basse frequenze abbiamo a circa 20Hz un'attenuazione di circa 0,3dB mentre per quanto riguarda la curva blu quindi con le valvole accese abbiamo a 20Hz un'attenuazione di circa meno 1,5dB Per quanto riguarda invece medie frequenze e altre frequenze le due curve sono praticamente sovrapposte C'è da notare solamente che non si spinge molto in alto per quanto riguarda la risposta in frequenza a questo DAC Infatti nonostante l'ingresso a 192kHz permetta di spingersi molto in alto con le frequenze la curva inizia a calare abbastanza presto Infatti a 20kHz in entrambi i casi siamo a circa meno 0,6dB è comunque un'attenuazione molto blanda molto difficile da udire a orecchio però è giusto farlo presente Quindi in questo caso direi molto buona la risposta per quanto riguarda la funzionalità Tube Off leggermente meno quella con le valvole accese comunque rimane una buonissima risposta in frequenza Andiamo poi invece a valutare la risposta in frequenza quando viene utilizzato l'ingresso analogico RCA quindi non viene utilizzato il DAC ma l'apprecchio viene utilizzato semplicemente come preamplificatore Il segnale questa volta è quindi un segnale analogico che proviene però da una conversione da un segnale di 192kHz 24 bit La conversione questa volta è stata fatta dal mio sistema di misura In questo caso la curva azzura rappresenta la risposta in frequenza con la modalità Tube Off mentre la curva a blu la risposta con la modalità Tube On Abbiamo sempre la stessa differenza sulle basse frequenze che è identica a quando viene utilizzato un ingresso digitale mentre sulle altre frequenze possiamo notare che in questo caso la risposta è molto più estesa arriviamo praticamente fino al fondo del grafico che si parla di 80-90kHz Possiamo quindi dire anche che il segnale analogico in ingresso non viene trasformato in digitale e poi trasformato ancora in analogico cosa che avviene spesso su questi tipi di apparecchi economici ma viene semplicemente trattato come un segnale analogico ne viene regolato il volume e vengono applicati il controllo di tono e viene poi rispedito in uscita Andiamo poi a valutare la differenza che c'è tra il canale destro e il canale sinistro In questo grafico troviamo la risposta in frequenza di entrambi i canali Come possiamo vedere sono praticamente sovrapposti si può dire che non abbiamo nessun tipo di differenza tra il canale destro e il canale sinistro e questa è una cosa molto buona Se pensiamo che questo risultato è stato ottenuto con la modalità tube on quindi con le valvole accese è molto buono infatti la tolleranza delle valvole in questo caso è molto molto bassa Come ultimo grafico andiamo a vedere poi l'intervento di controllo di tono Come possiamo vedere nella curva viola abbiamo i controlli di tono sia alti che bassi al massimo la curva verde abbiamo i controlli di tono alti e bassi aumentati di un decibel la curva blu è invece la classica con i controlli di tono disattivati la curva gialla abbiamo i controlli di tono alti e bassi attenuati di un decibel e mentre la curva azzurra abbiamo i controlli di tono completamente al minimo Altre misure interessanti che ho fatto sono la differenza di livello tra il tube off e il tube on in particolare la modalità tube off è più alta di volume di 2 dB rispetto alla modalità tube on poi ogni scatto del volume equivale a circa 0,5 dB di aumento del segnale poi il guadagno della parte di preamplificazione è di 0 dB se viene utilizzato in modalità tube off quindi in realtà il segnale in ingresso analogico esce come non viene preamplificato un guadagno di 0 dB equivale a nessun tipo di amplificazione viene però modulato per quanto riguarda la regolazione del volume e anche dei controlli di tono se invece utilizziamo la modalità tube on abbiamo un guadagno negativo di meno 1,8 dB quindi il segnale anche quando il volume è al massimo viene leggermente diminuito di ampiezza questa penso sia una particolarità del tipo di circuito che viene utilizzato per la parte valvolare infine gli ultimi due dati sono il consumo che ha l'apparecchio quando è acceso che è di circa 8 Watt la maggior parte dei quali viene dissipata in calore infatti l'apparecchio si scalda abbastanza e invece il consumo parassita quando l'apparecchio è spento è di circa 0,3 Watt veniamo ora alla parte di note d'uso ed ascolto per quanto riguarda la parte di utilizzo è veramente molto comodo infatti ci bastano dei diffusori attivi o un classico amplificatore finale con dei diffusori passivi per creare un impianto completo il DAC infatti grazie al telecomando e la possibilità di regolare il volume e di avere anche un ingresso analogico ci permette appunto di avere una grandissima versatilità e anche se abbiamo visto dalla parte di misurazioni non preamplifica il segnale potrebbe anche essere utilizzato come preamplificatore passivo quindi occuparsi della selezione delle sorgenti e anche della regolazione del volume per quanto riguarda l'ascolto il suono è veramente buono io l'ho utilizzato collegato al mio amplificatore classe D di riferimento un Ipex N Core e il suono che ne è scatuito è stato veramente molto molto interessante soprattutto se teniamo presente il corso dell'apparecchio ho fatto delle sessioni di ascolto sia con le valvole accese e anche con le valvole spente devo dire che non ci sono dei grandissimi cambiamenti di suono però mi è perso di sentire che quando utilizzavo la modalità T-Bone il suono era leggermente più ambrato diciamo più piacevole magari meno corretto ma al mio orecchio più piacevole ho provato anche ad utilizzarlo con il bluetooth funziona molto bene anche la qualità è buona certo non è ottima come quando si utilizza l'ingresso quassiale un ingresso ottico ma è comunque molto buona diciamo che secondo me questo prodotto è ottimo per chi ha un finale di potenza quindi senza parte di preamplificazione ha anche bisogno di un DAC e in questo modo con questo apparecchio riesce a fare entrambe le cose quindi prende un DAC ma anche una specie di preamplificatore che gli permette di regolare il volume comodamente dal telecomando gli permette anche di regolare i toni e di gestire la parte degli ingressi una cosa invece che mi è piaciuta molto è la parte estetica infatti le due valvole quando l'apparecchio è acceso sono rete illuminate con una luce arancione il che le rende veramente molto molto belle rende l'apparecchio veramente un oggetto molto bello da vedere veniamo quindi ora ai voti finali per quanto riguarda la risposta a frequenza ho dato un 7 per il suono un 8,5 per il design un 9 per la versatilità un 8,5 e per il rapporto qualità prezzo un 8,5 per quanto riguarda il prezzo ad oggi questo apparecchio si trova su Amazon al costo di 145,99 euro vi lascio il link di Amazon del prodotto in descrizione al video vi consiglio di andare a controllare infatti le offerte di Amazon cambiano giorno per giorno e non è detto che il prezzo nel momento in cui sto registrando il video lo sia quando voi state guardando il video quindi per andare a vedere il prezzo attuale vi consiglio di cliccare sul link che c'è in descrizione al video vi ricordo inoltre che questo è un link affiliato con Amazon infatti se voi decidete di acquistare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando dal mio link per voi il prezzo non cambierà di un centesimo ma Amazon mi riconoscerà una piccolissima percentuale sul prodotto quindi se vi va di supportare in modo completamente gratuito per voi il canale questo è un ottimo modo bene anche questo video è finito vi ringrazio di averlo visto fino alla fine vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto grazie e al prossimo video grazie